I fuochi è uno dei più insidiosi pericoli per la nostra terra. In estate il rischio dei danni che può provocare si fa maggiore per diversi motivi. Un incendio su quattro è provocato volontariamente ogni tre e causato dalla sottovalutazione dei pericoli di chi accende un fuoco per ripulire il terreno dalle serpaie, vegetazione secco per distruggere i resti delle potature. A volte da alimentare fuochi e il vento ed è così che la situazione si può trasformare in una tragedia. Nella protezione civile di Agrigento arrivano alcuni consigli per evitare che piccole disattenzioni possano scatenare gravi eventi. Quello che noi come protezione civile comunale vogliamo dire è che è obbligo dei proprietari dei terreni privati e non solo privati, l'obbligo è quello di tenere puliti i terreni, quindi puliti da sterpagli, puliti anche da spazzatura o quant'altro, cioè di tutti quei mezzi che possono risultare pericolosi perché incendiandosi ovviamente creano seri problemi. Coloro che lavorano in campagna sappiano che non è possibile in maniera indiscriminata, incontrollata, accendere fuochi a qualsiasi ora del giorno, anche quando spira vento forte, che invece i fuochi vanno accesi nei modi e nei tempi opportuni proprio per evitare che gli ingenti soprattutto di serpaglia o ingenti comunque di interfaccia in genere si inneschino mettendo spesso a repentaglio anche fabbricati, mezzi e quant'altro lo trovano sul loro passaggio. Dunque basterà seguire questi piccoli accorgimenti per diminuire il verificarsi di eventi ingendiari.